Il basket è tornato in tv. Il tivo è verità non è che abbia fatto una grande trattativa, alla fine abbia firmato dopo due o tre giorni subito. Quasi tutti i giocatori hanno la doppia dimensione interna e esterna e addirittura questo ha portato che molto spesso vicino a canestro vanno a giocare spesso i playmakers. Tutti i martedì in diretta alle 21.30 su Prima Antenna, canale 14 e in streaming sul sito www.primantenna.it e dal giorno successivo anche sul canale YouTube di Prima Antenna.